E siamo arrivati a Linea Pelle. Ma questa è una chiesa. Già, è vero, è una chiesa. Perché, sapete, Memphis quest'anno in occasione di Linea Pelle ha saputo conciliare l'essere e il non essere. L'esserci o il non esserci. L'esserci in contemporanea a una manifestazione come Linea Pelle e non esserci. Scegliere di stare un po' fuori dal coro. Fuori dal coro per poterlo condurre. Venite con me. Perché quello che vedete non è un semplice stand. Non è neanche una semplice dimostrazione di quello che si può fare. Quello che vedete è una galleria d'arte dove ci sono quadri creati appositamente e dedicati. E dove vedremo come quest'arte, come questi quadri, come queste immagini, come tutta questa possibilità creativa possa integrarsi con la grande produzione di Memphis. Seguiteci.